Ciao ragazzi, io sono Elena e questo è Audiofilando. Iniziamo questa avventura delle supposte metal con un grande anniversario. Ebbene sì, oggi è l'anniversario di questo album qui, Le Zeppelin 4. Certo, i Le Zeppelin non si possono dire un gruppo metal, ma se vogliamo ritrovare le radici del metal dobbiamo guardare a loro come ai Black Sabbath, ai Deep Purple e a tanti altri. Quello che conosciamo come Le Zeppelin 4 in realtà è l'album del 1971 che non aveva alcun nome. Contiene forse la canzone più famosa delle Zeppelin, cioè Starway to Heaven, anche se il cantante Robert Plant ci ha sempre fatto intuire che tutto sommato non è tra le sue preferite. Ma tant'è che per noi rocchettari è rimasto un capolavoro. Sembra che quest'album dovesse contenere più di otto canzoni, infatti quattro di quelle scritte in questo periodo finiranno poi nell'album Physical Graffiti del 1975. All'interno del layout grafico di questo album campeggiano quattro simboli misteriosi, che pare rappresentino i quattro componenti nel gruppo che hanno scelto essi stessi il loro simbolo da un libro di rune. Allora, qual è la vostra canzone preferita di quest'album? Vita nello!